Buongiorno, mi chiamo Alex Delia e mi occupo dello sviluppo tecnologico di Mangrovia. Mangrovia realizza reti mesh per portare la vera banda larga alle comunità, cioè agli abitanti, alle aziende e alle municipalità in generale, con lo scopo di migliorare l'efficienza e la gestione locale. Il protocollo mesh utilizzato da Mangrovia, che è un protocollo aperto, open source, consente ai nodi di Mangrovia di trasmettere segnali wireless anche a 40 km di distanza, ma soprattutto si occupa della gestione del traffico, rendendo il sistema una vera mesh network. Nel 2008, per il comune di Venaria Reale, vicino a Torino, Mangrovia realizzato un progetto di videosorveglianza con infrastrutture di rete wireless mesh. Le necessità erano avere una trasmissione dati sicura, coprire un ampio territorio con costo molto ridotto e poter applicare la tecnologia ad altri servizi per il cittadino. Tutto questo è stato raggiunto grazie ad una prima rete wireless mesh di 12 nodi, per la trasmissione dati di 16 videocamere. Sulla dorsale abbiamo raggiunto su ogni nodo una banda reale costante di 55 ambiti al secondo. Nel 2009 la rete è stata ampliata di altri 6 nodi e da poco il comune ha deciso di usare la stessa rete per portare internet in alcune piazze. Il progetto è in una nuova fase di ampliamento e rappresenta una delle primissime installazioni di rete mesh in Italia, sia per capacità che per dimensioni. Grazie a tutti.